E ormai il credit crunch per le imprese italiane. Ragusa non fa certo eccezione. Questi dati relativi ad agosto 2023 a confronto con lo stesso periodo dello scorso anno pubblicati da uno studio della CGA di Mestre. Gli impieghi bancari vivi per le imprese sul territorio nazionale sono diminuiti in media del 7,7%. In termini assoluti, spiega la CGA, la contrazione è stata pari a 55,8 miliardi di euro. La riduzione alle realtà imprenditoriali con meno di 20 addetti è stata dell'8,7%. Quelle di dimensione superiore invece hanno subito un taglio un po' più contenuto e precisamente del 7,5%. Aumento di tassi di interesse, calo dei volumi di credito causa frenata del PIL nazionale, minore liquidità da parte delle banche e i tre punti centrali di una crisi finanziaria che rischia di allargarsi. Ragusa in questo caso è la seconda provincia siciliana in questa speciale classifica, superata solo da Messina che registra una contrazione dell'8,8%. La provincia iblea si attesta su una diminuzione del 7,8% frutto di una contrazione di ben 50 milioni di euro in meno da 643 milioni complessivi a poco meno di 594 milioni. Un dato che fa riflettere d'allarma, visto che la media ragusana è più alta di quella siciliana e non potrebbe essere altrimenti. E soprattutto si rischia un nuovo effetto al ribasso al termine dei vari incentivi che, vista la geografia economica del territorio ibleo, potrebbero determinare una vera e propria catastrofe, sia in termini di liquidità che più in generale di possibilità e prospettive per le imprese, ad esempio del settore edile. Cosa fare? Come rispondere a quest'ennesimo allarme? Per il momento a livello politico e non solo, tutto tace. La guida è prima della tempesta? Speriamo di no.